Sono passati 70 anni da quell'11 agosto in cui Firenze si liberò dal nazifascismo ancora prima dell'arrivo degli alleati. È una giornata di festa per il capoluogo toscano che inizia la mattina con la deposizione in piazza dell'unità di una corona dell'oro da parte delle autorità civili, religiose e militari al monumento ai caduti di tutte le guerre. A Palazzo Vecchio poi il sindaco Dario Nardella incontra i partigiani rappresentati sul palco da Vittorio Meoni, presidente dell'AMPI della provincia di Siena. Ed è qui che Nardella annuncia che entro pochi mesi Firenze avrà il suo museo dedicato alla Resistenza che sorgerà o nell'area ex Longinotti a Gavinana o a Villa Vogel oppure in centro a fianco del Museo Marino Marini. Un luogo dove la memoria della Resistenza sia costruita attivamente. Chi oggi dice io non c'ero perché non era nato non può dire io non mi interesso, io non centro niente con quello che è successo. Io non c'ero significa io sono qui, ringrazio perché altre persone hanno dato la vita per consentirmi oggi di essere un uomo libero. Nella platea del Salone dei 500 gli assessori della Giunta Nardella, alcuni consiglieri comunali, il parlamentare Francesco Bonifazzi, la vicepresidente regionale, Saccardi e tanti cittadini. A stonare nella giornata di commemorazione la celebrazione organizzata a Trespiano in memoria dei franchi tiratori dal centro sociale di destra Casa G. Un'iniziativa che offende la giornata dedicata alla liberazione, secondo alcuni rappresentanti dell'AMPI, che poteva e doveva essere evitata.